Ciao a tutti belli e brutti, it's Gaia here e oggi vi parlerò dei miei traguardi che non mi aspettavo di traguardare nel 2020 Volevo uploadare altri video, in realtà, solo che per ovvie ragioni non farò in tempo, quindi magari riesco a fare in tempo questo e pubblicarlo entro l'uno Quindi, domani! E lo faccio in italiano, in onore ad onorem dei miei followers, ergo amici italiani, che saranno tipo tre Grazie, ciao, siete molto apprezzati e spero di sbrigarmi, così non devo montarlo troppo Mentre aspetto caprano la pasticceria, vi ribellerò cosa ho fatto Traguardo numero uno Se non lo sapete, io sono molto pudica, però quest'anno, dopo essermi iscritta alla palestra, sono riuscita Dopo due mesi Sto morendo Cioè, Nacek ha chiesto, qual è il tuo numero preferito in francese? Io tipo, oh! Sono riuscita, sono riuscita in via straordinaria, quest'anno, a fare la doccia Nuda Non vestita, nuda Alla doccia pubblica della palestra E io, sciucchetta Molto scioccata Molto ma molto scioccata Già che una volta mi scenava solo vedere la gente che andava in giro, nuda A lavarse Tipo, bitch, I don't want to see your tralala Anyways, punto numero due Dato che ho menzionato la palestra Sono riuscita a perdere peso E non so quanto pesassi a gennaio No, del 2020 Però può essere anche 66 Può essere anche 63 Però magari oscillavo Quindi, secondo me It's safe to say che pesavo anche 66 Se non a gennaio magari dopo E quindi, questo vuol dire Che Che c'è un tipo che mi fissa In bicicletta E vuol dire anche Che ho perso 10 chili Adesso sono in 50 Beh, stamattina ero 55 e mezzo Quindi, scu Però Sì, bella Sono a 56, 56 e mezzo Ora di norma Quindi, scu scu Mangiando anche Nutella E mascarpone Quindi ci sta Devo dire Tutto molto healthy Cause Ho fatto tipo Una maratona Di due mesi Ossia la quarantena Con mia sorella Working out Per tipo un'ora e mezza Ogni Cavolo Di giorno Mangiando anche la pasta Praticamente ogni giorno Però Dettagli Abbiamo perso comunque peso Ed è stato molto carino Il peso dopo Non so come l'ho perso Perché non stavo facendo dieta Comunque Spero di diventare Più healthy And fit Quindi salutare Non so cos'altro dire Muschialosa Per l'anno nuovo Ancura Ergo domani A partire da domani Quindi stasera Si sboccia Altro traguardo Importante È il numero 3 Il 27 di gennaio Se non sbaglio Sono riuscita Alla seconda volta Che provavo A passare la pratica di guida Quindi ho la patente A gennaio Questo Avrò la patente Da almeno un anno Io ho paura Perché appena sarà Il 27 gennaio So già Che mia mamma Vorrà farmi usare La macchina automatica E io Non c'ho voglia Perché No E poi sono più grandi Quelle Cioè No amica Io voglio Macchina piccola Voglio smart Traguardo 3.2 Bis Sono riuscita A andare In due post diversi Distanza 20 Slash 40 minuti In macchina Seguendo il navigatore Del telefono E per me È un'impresa Ed ero da sola Anche E quindi Bravissima Questo per dire Ho preso La patente E sono diventata più A mio agio Con la macchina Però It's a long way To the top If you wanna rock the road E ho imparato A Usare il navigatore Per un punto fondamentale Che è il punto numero 4 Mi son presa Dei gerbilli E dove li trovo Sti gerbilli Qualcuno nel mondo E quindi Ho usato Mie skills Da Gen Z Per usare il navigatore E arrivarci in macchina Quindi Bravissima Bravissima Ve li mostro Mie gerbilli Daisy e Bini Ho preso prima Bini Probabilmente non lo sapete Ma mio sogno Nel cassetto È sempre stato A prendere criceti E allora ho preso gerbilli Perché I sogni Sono desideri Che non si avverano Punto numero 5 Lo vedete qua Ossia la mia maschera Se non lo sapete C'ho l'ossessione Per coreani Se non lo sapete Mi è venuta voglia Di maschere Nel 2019 E me le son prese Da Amazon Cosa succede? Boom Covid E le usiamo le maschere Sì Pensavo Wow Adesso le ho comprate Ma non è che posso Andare in giro Con la maschera Così a caso Perché Sembro fuori Di testa Quindi O devo aspettare Di andare in Corea O Faccio la figa E mi faccio solo le foto Con la maschera E invece no Cosa arriva? Mi lascia girare Con le mie Benedette Maschere Molto carine Quindi Scusatemi Mi sa che La pandemia È colpa mia E per finire In bellezza Mettiamo il dito Nella piaga E ricordiamoci Che nel 2020 Sono riuscita A perdere Tutti i soldi Della palestra Che Aveva L'iscrizione Annuale E Tutti i messaggi Di Whatsapp A partire Da Boh Sulle medie Quindi Boh 2013 12 E Ergo perché Non so Il mio peso Perché le avevo Scritti là E non le ho più E Mi viene la voglia Di morire Anche perché Non stanno Aprendo la Pasticceria E io Come faccio Boh Comunque Se non ci vediamo Buon anno Buon danno Buon Una vita PC Buon anno Buon anno Va bene Il countdown Ve lo darò io In modo che Stamperete insieme Brinderemo insieme All'anno nuovo Ok? Ok? Sì E abbiamo le tante Tiene Caro Quenire Venti Due Tentuna Tenta E' una parte Tappo da solo Mamma no Mamma no Mamma no Mamma basta Stira Mamma Tienilo Non parte No Mamma Mamma Tienilo Tampo Unici Deci Nove Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Due Uno Via Chissà Period È rimasta No Entra Lai Non sei sposi No Nota No E' un pronto E' un pronto Insomma siamo Di più Corona Entra A E inside La Ragazzi non ci vedi sposi Ehm... Non so che ci avrei voluto Desiderio? Uno... Due... Tre... Entro l'anno Sì Ragazzi è l'unica sensore a macchiette Fregate Dove vai? Dove vai? Buu buu Buon cacchino Dolly Dolly non ci vuoi più Buon cacchino Buon cacchino Buon cacchino Bello Con primo primito dell'anno brava odiami di nuovo grazie